Prima la gelosia, poi la chiusura definitiva. Elisabetta Gregoraci ha messo fine definitivamente alle speranze di Pierpaolo Pretelli. L'ex dibliatore dopo giorni di tensioni per la vicinanza dell'ex velino a Giulia Salemi ha tirato il freno a mano per l'ultima volta, forse. Durante un confronto con Pretelli ha ribadito la sua posizione su una storia eventuale tra i due. Non mi fidanzerei mai con te neanche per 15 minuti. La calabrese è rimasta mare per gli ultimi comportamenti del trentenne, tante le incomprensioni tra i due e tanti malintesi che le hanno fatti allontanare. Il ragazzo non ha avuto reazioni quando lei gli ha detto che sarebbe uscita dal GF VIP per andare dal figlio. Ne aspettavo che tu magari mi parlassi anche un sono dispiaciuto che te ne vai. Niente, quando parlo io percepisci solo le cose brutte.